dolcissime dolcissime patatino patatina patatina amore 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 della mamma patatino patatino mia patatino patatino è un patatino di via di grattussi di grattini di via di amore ciao ciao il mio patato il mio patatino patato patatino lo sta mangiando il mio patato chissi 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 mi vuole bene il mio patatino due e e chissi 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 patate patatino amore questo gatto mi ama ho avuto tanti gatti ma no a questo livello di dolcezze di amore amore mio che bello amore patata 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 chissi un bacettino ecco 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 un patatino, è un amore il mio Giulio, un amante bello amore. Madonna, mi stai facendo di quelle fuse proprio, mangia, mangia la mamma, mangia, vai a mangiare va, vai a mangiare va, palpettino, vai a mangiare va. Che poi non ci vediamo più tardi, ok? Ci vediamo più tardi. Ah? Che dici? Patato? Patato? Che dici? Patato? 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 Patatino? Un, due, tre, e quattro. Amore, com'è tutto il bello. Giulio, amore. A luglio fa un anno che lo tengo a casa mia. Un anno, dodici mesi, dodici mesi meravigliosi, strepitosi e amorosi e pucciosi. Quando è entrato lui nella mia vita è cambiato, è cambiato intanto, è cambiato, è cambiato, è cambiato, è cambiato in senso che è cresciuto però è rimasto sempre quel cucciolo che è venuto a casa mia un anno fa, quasi un anno fa, perché a luglio fa un anno il mio amore. Il mio amore è il tuo, il mio amore è il tuo, il mio amore è il tuo, il mio amore è il tuo. Beh ragazzi e ragazze, dolcissime e dolcissimi, io vado e ci vediamo nel prossimo video. Bye bye! Ciao ciao, al prossimo video. Un bacio da me e da Giulio, 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 Giulio. Ciao, ciao, ciao cuccioloni, cucciolette, ciao!